La polizia di Taranto ha eseguito 5 fermi per l'omicidio di Cosimo Nardelli dello scorso 26 maggio in via Cugini. E il tentato omicidio di Cristian Troia è venuto sempre a Taranto in piazza Pio XII il 13 aprile scorso. Il blitz degli uomini della squadra mobile è scattato alle prime luci del mattino. Le indagini sono state dirette dalla procura distrettuale di Lecce e dalla procura ordinaria di Taranto, coordinate dai PM Milton De Nozza e Francesco Sansobrino. Tutte le persone sottoposte a fermo sono state trasferite in carcere. Le forze dell'ordine in generale, quindi guarda di finanza, carabinieri, polizia di Stato, sono presenti. L'attenzione ai fenomeni è costante, viene poi portata in un tavolo che è preseduto dal prefetto molto spesso, così come è avvenuto per l'omicidio di cui oggi abbiamo discusso. Dei 5 fermati, 4 sono ritenuti responsabili dell'omicidio del 61enne Cosimo Nardelli. C'è anche il fratello della vittima. Due di questi, più un'altra persona di origini albanesi, dovranno rispondere del tentato omicidio. Inizialmente ci sarebbe stato un tentativo di estorsione ai danni di Nardelli, hanno detto gli inquirenti in conferenza stampa, alla base dell'omicidio interessi economici, probabilmente legati ad un'azienda agricola di famiglia. Il tentativo di omicidio invece affonda le radici su questioni di natura personale. Entrambi gli episodi sono riconducibili al gruppo, sul quale si erano concentrate da subito le attenzioni degli investigatori. contestato anche un terzo episodio relativo ad una tentata estorsione, ipotizzata l'aggravante del metodo mafioso. Un omicidio dettato da motivi economici legati alla gestione di fondi agricoli. Motivi economici che inizialmente intercorrevano tra l'indagato, uno degli indagati e le vittime, e la vittima. Ma successivamente sono diventati gli interessi economici propri di un gruppo criminale che si stava strutturando nella città di Taranto, adottando delle modalità di estrema violenza come questi delitti evidenziano.